Salve e benvenuti a Fatima Oggi. Il nostro ospite speciale è Padre Paul Kramer. Autore del libro Il mistero dell'iniquità. Benvenuto al nostro programma, Padre. È un piacere, Padre. Nel suo libro si parla del mistero dell'iniquità, una frase usata da San Paolo nella sua seconda lettera ai tessalonicesi. Le affronta il problema della massoneria e il fatto di come la rivoluzione francese e il regno del terrore siano stati sostanzialmente figli della massoneria o comunque causati da quest'ultima. Forse può parlarci delle prove a sostegno di questa sua tesi? Esiste un libro molto interessante scritto da Monsignor Harry de Lassos intitolato Il problema dell'ora presente che riporta un gran numero di citazioni tratte da libri e da documenti più importanti della massoneria nei quali i massoni non solo si attribuivano la riuscita della rivoluzione francese ma ne erano fieri. In questi documenti ufficiali citati da Monsignor de Lassos la massoneria proclama che il proprio obiettivo è di continuare quell'opera. Ora, la massoneria è nata nel 1717, o meglio, si è manifestata pubblicamente in quell'anno. Esatto, ufficialmente è nata nel 1717, ma i suoi stessi testi riportano che la sua fondazione risale a diversi secoli prima. Quindi la massoneria insegue l'obiettivo di creare un nuovo ordine mondiale, una repubblica massonica, sin dai primi anni del XVIII secolo. Sì, un'unica repubblica mondiale, sotto il controllo dei massoni. E la rivoluzione francese fu progettata dai massoni per oltre 60 anni, a partire dal 1730, in modo da sovvertire l'ordine costituito in Francia e rimuovere la monarchia. Esattamente. E per conseguire questo obiettivo, cominciarono col creare logge massoniche in Francia, a cavallo tra gli anni 20 e 30 del XVIII secolo, tutte controllate da gran maestri inglesi. Fu in quegli anni che gettarono le basi per i preparativi della rivoluzione che sarebbe scoppiata nel 1789, così come per quella americana che sarebbe iniziata nel 1776. Per spiegare ai telespettatori che cos'è una logge massonica, premetto che si tratta di un luogo dove si riuniscono le sette segrete, teoricamente per scopi fraterni, ma dove in realtà si cospira e si complotta per rovesciare il governo legittimo, come accadde in Francia ed America. Ora, il 90% dei massoni non sa cosa sia realmente la massoneria. Per molti di loro è solamente un club. Monsignor de Lassos ne fornisce una prova quando rivela, come fu annunciato alle logge massoniche, il progetto di fomentare una rivoluzione che sarebbe scoppiata 60 anni più in là. La maggior parte dei massoni della loggia pensò che si trattasse soltanto di un grande scherzo, ma poco più tardi il massone che raccontò questa vicenda scoprì che era una cosa molto seria. Molte persone non conoscono bene la storia. Potrebbe descrivere alcune delle cose che sono accadute durante il regno del terrore introdotto dalla rivoluzione francese? Molti cronisti di allora riportano che fu come se gli esseri umani avessero perso il controllo delle proprie azioni e uno spirito maligno avesse preso il comando della rivoluzione francese. Tutto questo portò al regno del terrore. Più che curioso è il fatto che anche quando Robespierre venne ghigliottinato nei suoi appartamenti privati vennero trovati dei documenti segreti nei quali egli progettava di sterminare metà della popolazione francese. Questo documento è stato citato niente meno che dal cardinale cileno Caro Rodriguez il quale partecipò al conclave del 58 dopo la morte di Papa Pio XII. Durante il regno del terrore vennero ghigliottinate e uccise moltissime persone. Si trattò di un progetto premeditato per la riduzione della popolazione francese. Fu tutto pianificato in anticipo. Se non erro è stato uno scrittore inglese Lord Acton ad aver affermato che la cosa più terrificante fu proprio l'aver progettato questi massacri a sangue freddo. Per quale motivo avevano questo desiderio di sterminare, uccidere, tagliare la testa con la ghigliottina a tutte queste persone? La ghigliottina fu inventata proprio per uccidere in modo più efficiente e veloce. Volevano eliminare metà del popolo francese a quanto pare per nessun motivo evidente. Ha qualche spiegazione per questo desiderio di uccidere? Ci sono molti motivi. Innanzitutto molti governi rivoluzionari hanno difficoltà a controllare una popolazione troppo numerosa. Durante la rivoluzione sovietica i bolshevichi imprigionarono gran parte delle classi più elevate perché è molto più facile controllare le classi lavoratrici e imporre una dittatura su di loro arrivando addirittura a schiavizzarli se tutti i loro leader vengono ridotti al silenzio e messi in prigione. Certo. Prendiamo ad esempio il nuovo esercito del popolo delle Filippine. si tratta di un'organizzazione comunista anzi un esercito ribelle comunista che tuttora cerca di rovesciare la Repubblica Filippina e di instaurarvi un regime comunista. Negli anni 80 erano guidati da un certo Rodolfo Salas anche lui affermò di voler ridurre drasticamente la popolazione della città di Manila solo per motivi amministrativi non possono governare se non riducono prima la popolazione. Anche Pol Pot fece lo stesso in Cambogia si in Cambogia fece massacrare deliberatamente più di un terzo della popolazione cambogiana. Se non ero la popolazione di quel paese era circa di 6 milioni di abitanti e in 2 o 3 anni più di 2 milioni di cambogiani vennero uccisi da Khmer rossi sono numeri impressionanti. Fu un vero e proprio sterminio di massa deliberato ed eseguito a sangue freddo sterminare per il gusto di sterminare al fine di ridurre la popolazione e consolidare il proprio potere. Ho visto immagini raccapriccianti di teschi e ossa accumulati in enorme fosse comuni. Hanno anche fatto un film a riguardo non sono fantasie sono cose avvenute sul serio. Come ho dimostrato nel mio libro il loro progetto è quello di ridurre la popolazione mondiale di più dell'80%. Cioè vogliono uccidere ben 5 miliardi di persone per tornare alla massoneria la rivoluzione francese e quella comunista sono tutte legate a doppio filo alla massoneria giusto? Certamente il comunismo è stato creato dalla massoneria tutti gli esponenti più importanti i teorici e i rivoluzionari comunisti senza alcuna eccezione appartenevano tutti alla setta della massoneria l'ho appreso per la prima volta leggendo il libro di padre Manfred Adler la rivoluzione anticristiana della massoneria si tratta di un libro pubblicato in tedesco dove si riportano le parole di plauso che le logge massoniche inviarono a fratello Lenin e fratello Trotsky per l'opera che stavano compiendo a favore della massoneria grazie alla loro rivoluzione comunista in effetti se non erro gli stessi Lenin e Trotsky facevano parte di una loggia di Parigi no è la loggia di Parigi che li stava elogiando in questo caso capisco ma entrambi furono gran maestri del trentatresimo grado del rito scozzese si quindi il comunismo deriva dalla massoneria e se non ricordo male lo stesso Karl Marx fu assoldato dai massoni affinché scrivesse il suo libro sì il suo libro fu scritto sotto commissione Karl Marx faceva parte della stessa società segreta ed egli fu il teorico designato insieme a Frederick Engels per scrivere il manifesto comunista ma vi fu anche un terzo autore il cui nome fu passato all'epoca sotto silenzio per motivi politici perché se fosse stato associato al comunismo la sua carriera politica in America si sarebbe sostanzialmente conclusa di chi si tratta? parlo di Horace Greeley ah può dire agli spettatori chi fu? certo fu uno scrittore molto importante e politicamente attivo del diciannovesimo secolo esatto ovviamente la carriera politica di una persona troppo vicina al comunismo negli Stati Uniti sarebbe stata compromessa se ti dichiaravi comunista eri finito certo quindi queste tre persone scrissero il manifesto comunista sostanzialmente su richiesta della massoneria ora una famosa setta della massoneria è quella degli illuminati ma gli illuminati sono tutti massoni o c'è qualche differenza? la setta degli illuminati è un ramo speciale della massoneria furono loro ad occuparsi della rivoluzione il loro progetto dichiarato è quello di rovesciare i governi europei e di abolire la proprietà la religione e fondare un governo mondiale si tratta delle persone responsabili della rivoluzione francese perché furono gli illuminati a concepirla e portarla a termine gli illuminati furono fondati se non ero da Adam Weishaupt esattamente il ramo il ramo bavarese degli illuminati fondato da Adam Weishaupt dell'università di Ingolstadt era di sicuro il più potente tra tutti e tra i punti del programma degli illuminati c'era quello di far scoppiare una rivoluzione mondiale il cui scopo finale era la creazione di un governo mondiale dominato dalla massoneria in pratica gli illuminati sono coloro che hanno guidato il fronte e che manovravano i fini della rivoluzione proprio così sono coloro che hanno reso possibile la rivoluzione ma una rivoluzione non comporta soltanto un cambio di governo ma anche un drastico cambiamento sociale che cos'è che vogliono esattamente? di sicuro vogliono mettere fuori legge la chiesa cattolica le religioni monoteiste e il culto del dio creatore in generale al primo posto dei loro obiettivi c'è senz'altro la chiesa cattolica poi le altre confessioni cristiane come il protestantesimo o l'ortodossia ma anche gli ebrei ortodossi e persino l'islam tutte queste religioni che professano il proprio credo in un creatore trascendente devono essere spazzate via perché il credo della massoneria è negli antichi misteri pagani massoneria significa sostanzialmente paganesimo politeismo è un sistema religioso panteistico pertanto all'esatto opposto rispetto ad una religione monoteistica il loro culto è sostanzialmente demoniaco non vorrei ripetermi ma la massoneria è un culto luciferino e nei loro libri si vede apertamente lucifero come proprio dio dove lo dicono lo dichiarano apertamente nel libro fondamentale della massoneria morali e dogmi della massoneria scritto da albert pike dove proclamano lucifero come proprio dio al quale viene dato questo nome ibrido di jabulon che contiene in sé concetti diversi di divinità differenti e che riassume il principio dualistico secondo il quale bene e male sono due principi divini che esistono in equilibrio tra loro i due pilastri sui quali si leggerebbe tutto l'universo secondo loro certo secondo le loro teorie ma quindi quindi dio per loro è una forma di divinità dualistica una specie di anima del mondo un concetto panteistico secondo gli insegnamenti di padre Dennis Fahey il quale per chi non lo sapesse è stato un illustre scrittore ed un uomo alquanto erudito che ha insegnato per molti anni ed è stato funzionario del santo uffizio a metà del ventesimo secolo durante le sue lezioni ai propri studenti ripeteva che la massoneria si oppone implacabilmente al dio trascendente e che alla base della rivoluzione c'è l'abolizione della religione e della vera fede al fine di rimpiazzarla con un culto pagano di lucifero e di farlo con la forza esatto con la forza uccitendo e mentendo in tutti i modi possibili sì proprio così rovesciare tutti i governi del mondo abolire tutta la proprietà privata affinché l'umanità si trasformi in una massa di proletari senza alcuna proprietà ecco dove subentra il comunismo nel loro progetto e grazie a questa assoluta inversione della verità un principio demonia che è satanico fanno credere alla gente che abolendo la proprietà privata le classi lavoratrici sarebbero finalmente libere ma il fatto è che se si abolisce tutta la proprietà privata ciò che rimane è un'enorme massa di schiavi che non possiede nulla tutto l'apparato economico tutti gli strumenti di produzione e per l'esercizio del potere rimangono in mano allo stato monolitico e monopolistico quel regime globale voluto dagli illuminati della massoneria ecco quindi a cosa servono tutte queste rivoluzioni come quella francese americana sovietica sono tutte collegate tra loro e sono state volute dalle stesse persone e dalla stessa organizzazione la massoneria si dietro a tutto questo ci sono le stesse persone gli stessi individui che manovrano dall'alto anche se in modo diverso e a più svariati livelli le varie associazioni massoniche in tutte le nazioni del mondo sono tutte coordinate dall'alto ne esistono moltissime e in teoria diverse tra loro ma sono tutte coordinate da un unicamente centrale e le loro azioni vengono tutte indirizzate verso questo scopo finale ecco perché non deve testare sorprese il fatto che Trotsky quando giunsi in America nel marzo 1917 aveva solo 25 dollari nelle sue tasche e che quando lasciò New York nella sua nave c'erano 25 milioni di dollari in oro per finanziare la rivolta delle truppe russe anche la rivoluzione sovietica fu quindi finanziata dalle stesse elitte economiche che controllavano i governi e i media di tutto il mondo si tratta di persone ricchissime e potenti quando parlo del fatto che questi banchieri abbiano finanziato il comunismo la prima reazione è di incredulità perché mai i banchieri capitalisti avrebbero voluto finanziare un sistema che voleva sovvertire proprio il capitalismo ma in realtà il comunismo è stato concepito proprio dai banchieri capitalisti sono loro ad aver inventato e creato il comunismo proprio perché agisse come il loro braccio armato per togliere tutta la proprietà dalle mani dei contadini e dei piccoli o medi imprenditori per darla in mano alle grandi banche mondiali vogliono vogliono togliere la proprietà ai singoli individui e alle imprese private perché in questo modo possono introdurre un sistema monopolista dando in mano alle poche famiglie privilegiate che appartengono alla loro organizzazione il controllo della ricchezza del mondo una volta realizzato questo loro piano il prossimo passo sarà la riduzione della popolazione mondiale e cioè di uccidere sterminare sterminare senza scrupoli perché per quanto li riguarda il mondo gli appartiene ed essi considerano miliardi e miliardi di esseri umani come inutili mangiatori a sbafo non vogliono condividere il pianeta con questi miliardi di esseri inutili e pertanto grazie alla loro ricchezza e alla loro influenza hanno messo i propri uomini a capo delle Nazioni Unite del governo degli Stati Uniti e di molte altre organizzazioni non governative internazionali come il Club di Roma ad esempio e altre istituzioni che orientano le scelte politiche mondiali a questo scopo hanno introdotto ad arte quest'idea secondo la quale dovremmo ridurre la popolazione mondiale una cosa che fu ammessa apertamente già negli anni settanta nel Club di Roma fondato con i soldi di David Rockefeller dopo la guerra fredda avevano bisogno di qualcosa che spaventasse l'umanità e le facesse accettare un governo mondiale e una politica di riduzione della popolazione questo vero e proprio spauracchio venne trovato nel cambiamento climatico e nell'emissione di anidride carbonica che secondo la loro propaganda avrebbe portato ad un inquinamento tale da distruggere il pianeta visto che le emissioni di anidride carbonica sono provocate dagli abitanti del mondo la soluzione proposta se vogliamo salvare il pianeta e salvaguardare le poche forme di vita che possono ancora essere sostenute è quella di eliminare gran parte dell'umanità questo tipo di propaganda è stata data in pasto all'opinione pubblica di tutto il mondo ormai da decenni per capire l'assurdità del tutto basta un semplice esempio l'anno scorso è scoppiato un vulcano in Islanda che ha eruttato un'immensa quantità di anidride carbonica nell'atmosfera l'anno scorso in Islanda ha eruttato un vulcano che ha introdotto nell'atmosfera un'immensa quantità di anidride carbonica più di quanto la razza umana abbia mai prodotto in tutta la sua storia l'intera teoria secondo cui l'umanità starebbe inquinando irrimediabilmente il pianeta è una frottola e serve semplicemente a dare un pretesto al loro progetto criminale e omicida di spopolare il pianeta e sterminare la razza umana se ci pensiamo sembra quasi un progetto nazista il loro scopo dichiarato è quello di ripopolare la terra con una nuova razza superiore perché sembrano concetti di Adolf Hitler perché Hitler prese ispirazione per le sue dottrine proprio dalla massoneria riflettiamo un attimo sulla massoneria e i suoi principi Hitler si è ispirato ad essi il comunismo è stato creato dalla massoneria il nuovo ordine mondiale di George Bush è un obiettivo della massoneria lo stesso nuovo ordine mondiale che volevano creare nel 1776 con la rivoluzione americana e un decennio più tardi in quella francese sono tutti eventi voluti segretamente dalla massoneria perché il loro scopo è quello di mettere sul trono Lucifero e l'anticristo il primo genito dell'inferno vogliono instaurare il suo regno spazzare via la chiesa cattolica e tutti i cristiani massoni hanno detto apertamente di voler distruggere la chiesa cattolica non è così ci può dire esattamente dove l'hanno detto e dove si può leggere lo hanno ribadito in molti loro documenti gran parte dei quali sono riportati nel mio libro il mistero dell'iniquità dove potete trovare tutte le citazioni e i documenti nei quali i massoni hanno affermato nel corso dei secoli il proprio intento di distruggere la cristianità e la chiesa cattolica Voltaire ad esempio disse che era stanco di sentir parlare di come 12 uomini avessero fondato la cristianità e che avrebbe dimostrato che un solo uomo era in grado di distruggerla ovviamente parlava di se stesso sì parlava di se stesso Voltaire si riferiva alla chiesa come ad un qualcosa di infame una cosa che avrebbe dovuto essere distrutta da cento mani invisibili e segrete ovviamente non poteva distruggerla da solo anche se se ne vantava da un punto di vista letterario perché per farlo aveva bisogno della collaborazione della vasta rete cospiratoria dei massoni uso deliberatamente la parola cospirazione perché ogni volta che qualcuno prova a smascherare la massoneria i massoni sono subito pronti a dire che si tratta di assurdità che sei semplicemente un folle teorico della cospirazione che le accuse sono senza senso che vedi cospirazioni dietro ogni angolo eccetera eccetera ma il punto è che questo progetto è stato da loro proclamato apertamente e messo nero su bianco su molti loro documenti io ne ho letti tantissimi ed è per questo che ho più di 500 note nel mio libro nel quale riporto tutte le affermazioni ufficiali di questi massoni come disse nostro signore nel vangelo le tue stesse parole ti siano di condanna sono loro i primi a proclamare questo loro progetto sono loro i primi a dichiarare di cospirare per rovesciare i governi mondiali e la chiesa cattolica al fine di instaurare un unico governo mondiale e in ultima analisi di sterminare la razza umana a costo di ripetermi si tratta del loro scopo ufficiale annunciato e proclamato pubblicamente da secoli perché ormai stanno agendo in tal modo da più di 200 anni dal 1730 ad oggi praticamente sono quasi tre secoli ma se gli edori in facce diranno che sei un folle teorico della cospirazione che non c'è alcun fondamento in ciò che dici insomma sono degli ipocriti incalliti innanzitutto se una persona preannuncia un proprio obiettivo in maniera chiara e dice io ti ucciderò la prima cosa da fare è prestare attenzione a quella minaccia vedere se è reale e verificare se quella persona è in grado di portare a termine la sua minaccia nel caso dei massoni come abbiamo visto con la rivoluzione francese americana e sovietica nonché nel caso del regime hitleriano la massoneria è assolutamente in grado di portare a termine questo suo progetto pertanto saremo stupiti se non riprestassimo la dovuta attenzione esattamente visto che hanno ripetuto più volte nel corso dei secoli che quelle rivoluzioni sono state opera loro è assurdo che adesso vengono a dirci no non lo abbiamo mai detto è tutta una teoria della cospirazione sono solo farneticazioni di gente malata che vede cospirazioni ovunque ebbene non è così perché queste teorie della cospirazione come le chiamano loro non sono affatto assurde in quanto sono loro i primi ad averli annunciati al mondo per secoli anche quest'oggi il tempo a nostra disposizione è terminato di tutto ciò si parla anche nel terzo segreto nella parte che il Vaticano non ha ancora pubblicato il terzo segreto infatti parla di questa cospirazione contro Dio e l'umanità che sta avvenendo nella nostra epoca e ci dice cosa possiamo fare per combatterla ecco perché tutti noi abbiamo il diritto di chiedere al Papa di pubblicare integralmente il terzo segreto ricordiamoci inoltre di pregare il rosario tutti i giorni perché la Madonna ci dice che solo lei potrà aiutarci grazie Padre per essere stato con noi e alla prossima puntata di Fatima Oggi che Dio vi benedica grazie a tutti grazie a tutti Grazie per la visione!